Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico, in direzione Bologna. Sulla Fippilicco dei tratti tra Montopoli-Valdarno e la diramazione per Pisa, in direzione Livorno. Sempre in direzione Livorno si è verificato un incidente tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Sul raccordo a Siena-Firenze si segnala la presenza di animali sulla strada prima di Bargino, in direzione Siena. Sulla Statale 1 Aurelia a scambio di carreggiata per lavori tra l'incrocio con la 12 e Rosignano-Solvè, in direzione Nord. Svincolo chiuso all'incrocio con la 12, sempre in direzione Nord. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!